mesagne tv è una web television creata nel 2005 da videonize azienda operante nei servizi e nelle produzioni multimediali mesagne tv offre settimanalmente il meglio degli appuntamenti culturali sociali e di attualità della nostra città non viene dimenticata la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali e vengono promosse le realtà produttive più interessanti e meritevoli di attenzione ci puoi seguire sul nostro portale www.mesagne.tv sul nostro canale youtube e sulla nostra pagina facebook mesagne tv la web tv dei mesagnesi